Ok, caliamoci, andiamo giù Beh lancia tu, dai Scheggia nel piede, no? Dai, ti prendo in braccio, dai, profitta Vabbè Allora Oh, cazzo! Cosa? Quello! Tu... Tu non l'hai visto? Visto cosa? Ok, io vedo cose, ma tu non le vedi Ok, segui il mio ragionamento Questa nave trasportava l'oro della Manciuria Che in realtà pare fosse una sorta di arma allucinogena sviluppata in Cina nella seconda guerra mondiale E, essendo estremamente instabile, deve aver saturato la nave E se fosse ancora qui, a distanza di 70 anni E stesse avendo effetto su di noi, dandoci allucinazioni paranoiche Nessuno degli orrori che abbiamo visto era reale L'equipaggio aveva le allucinazioni Sappiamo che erano spaventati Qualcosa li terrorizzava Per gli ufficiali erano soldati paurosi che volevano solo saltare il tour Non è una nave fantasma, è un'arma biochimica Forse potrebbe avere qualcosa a che vedere con l'aereo dell'immersione Cioè, forse sono collegati? O c'è stato un contatto? È una teoria, comunque Wow Ok, andiamo avanti Ecco, magari in questo caso Appunto il ragionamento di Brad ci sta meglio Che mi ricordo adesso che Nella prima lana aveva detto Alex questa cosa In maniera un po' diversa, ovviamente Però Brad, essendo un cervellone Diciamo che lui forse era più giusto ci arrivasse lui Come è essesso adesso Piuttosto che Alex Però, beh Ok Van Linderly G9 Works Engine Motore diesel Ok Ok Ok, aspetta di qua Non mi ricordo Che cosa vorrà quella gente? I pescatori? Sì Eh, i soldi Eh, basta, nient'altro Beh, ci sono dentro fino a... Aspè, aspè, però Non mi ricordo più Forse da di là È la parte Dove Diciamo extra Diciamo da esplorare Vediamo un attimo Eh, sì Ok Engine room Ah, sì Registro telefono della sala macchina Recevuto comando 2-3 Avanti Sì, questo me lo ricordo Va bene Cambio guardia Assolutamente Sì Ispezione della sala macchina Eventuali anomalie Recevuto comando di avanti tutta Avanti tutta Va bene Ingegner 1-5 Ingegnero della sala macchina Per ispezione di emergenza C'è altro Ah, sì Questo, ok Cevuto comando di sfermata Motore spent L'1-32 Cevuto ordine di ancorare In acque poco profonde Ok Ok Vabbè, dopo 70 anni Quindi sono passati Insomma Teoria Il carburante Doveva essere esaurito Da un pezzo Vabbè che gli ho detto Di fermarsi Però no Per alimentare Dico le luci Eccetera La radio Eccetera Però E guarda caso Proprio adesso Si guasta Guarda caso Eh Eh Però ecco Se Una cosa Il gas Comunque ok Effetto qua Ovviamente Perché è un ambiente chiuso Eccetera Però Come loro infatti Sono andati all'esterno Si può dire Che sono Sono guariti Non ne avevano più Le vaccinazioni Come sono rientrati Ecco che lui Inizia a vedere cose Quindi è un'arma un po' Dai un'occhiata Un po' così Ehi Ehi I pescatori L'avranno preso Dalla Duke Per te funziona ancora Ah Ecco C'è l'ultima frazione di carica Un paio di minuti Lo portiamo con noi È pesante Sì ma non serve Non Cioè Io non l'ho In questo caso Faccio la stessa scelta Perché non serve Meglio di no Non portiamoci dietro Quel peso Eh Sì Fa il culo È un peso Ah però Non ho Non ho attivato La radio È vero E sono andato Direttamente di qua Vediamo Scelta Scelta diversa Sì ma un po' Ma scusa Noi che abbiamo Accoppato Allora C'era un'illusione Lui avevamo Accoppato Vabbè Vabbè Proviamo a stare Qua avevo Avevo Sbagliato Poi a un certo punto Vediamo se riusciamo A Non fallire Stavolta No forse no No ma so che a un certo punto Avevo fallito Io Forse dopo Forse dopo Nel mantenere la calma Era troppo veloce Fatti Ma qui Qui appare qualcosa Ma poi Ecco Forse adesso Ok Ok Dobbiamo andare No esamino Perché stavolta Non so se Gli ha dato L'anello Non credo Infatti è vuoto Ok Dovevamo andare Aspetta eh Ci provo È inutile Nascondersi Brutte Merde Perché volete Tenere tutto l'oro Per voi Ce l'è abbastanza Anche per me Più che abbastanza Siamo compagni D'avventura No State cercando Di tagliarmi fuori Ok Qua avevo sbagliato Non potete tenervi l'oro Ci provo eh Allora mi lasciate qui A morire Ma io sono il capitano Cui comando io E sono io quello che desideri E chi va E chi resta Ci resta molto tempo Hai qualche idea Nascondiamoci ancora Nasconditi Avevo scelto così Ok Vediamo eh Gli americani hanno invaso Una terra straniera E sono pieni di male I generatori funzionano Loro e mio E ora finalmente Toccano distruggere tutto A me Con questo cazzo Di martello gigante Ok ce l'ho fatta Ok ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Martello gigante Stavolta ce l'ho fatta Bene Però non ho attivato la radio Sa se influirà sta cosa Vediamo Perché vabbè Diciamo che ero un po' preso Sia nel parlare Che guardare in giro Chiudi Ah no vedi che ci ha Ci ha scoperto Comun Ah però l'abbiamo chiuso dentro Reggerà Vero Eh sì Beh forse credevo Dici Andiamo via però Oh ah Ok Non vi muovete E che nessuno sia zardi a cambiare Gliatemi Chiaro Lentamente Ok Ah però mi è venuta in mente Una cosa Eh beh Eh Rispetto Vediamo Non ce l'abbiamo con te Vogliamo solo andarcene da qui Lo capisci Mi spiace Ah Se respirate Temo proprio Non avrete molta scelta Ho voci in capitolo Ah Ancora Sta di nuovo cambiando tutto Cosa Sta cambiando cosa Indietro Scappate dalla nebbia Ma quale nebbia Attenti Non respiratela Non si può respirare Che cosa fa E Viva Va a risuscitare cose Che non dovrebbero essere vive E qui dentro Entrata con noi Adesso Ehi Non ti agitare Basta Basta È in uno di noi Vero L'assicurazione Forse Senti Io non ho respirato Nessuna strana nebbia Ok È la stessa cosa Che ho detto La prima run Vediamo Avete respirato la nebbia È finita Posso sentirlo Ok Va bene Senti C'era qualcosa di strano Prima Sembrava nebbia O foschia Forse Lo sapevo Te l'ho detto L'hai respirata? No Senti Non è così Abbiamo trattenuto Tutti il fiato Ah Ah Davvero Sarete esperti In dimensioni Ma non pensate Di fregarmi Siamo stati qui Per delle ore Avete sempre Tratenuto il desfilo? Lo state trattenendo Ora? Oddio È in me O nebbia dentro Vero? È dentro di me La sento Vorticare Dentro di me Mi sta cambiando Dall'interno Ha intervenuto Aspetta No Metti giù Eh vabbè È andato Però forse Ho capito Adesso Ho capito Adesso Il rebriter Perché Ho pensato Non dobbiamo mica Andare sott'acqua Però in realtà No Poteva servire Come maschera Diciamo Per l'ossigeno Quindi Le la davamo Secondo me E lui non si sparava Secondo me È così Però Siamo sopravvissuti Lo stesso Quindi Alla fine Ciò che conta È che noi Sopravviviamo Poi Questi pirati Possono anche Ammazzarsi Questo mi riguarda Ecco Noi qua Non abbiamo Attivato la radio Quindi Forse Stai alla radio Perché Controllo il ponte di sopra Magari c'è qualcos'altro Alex Non andare Torno subito Aspetta alla radio Resterò qui anch'io Non mi ricordo Facciamo lo stesso percorso Anche con In questo caso Eravamo Brad Nella prima run Oddio Ecco lui non c'era Però Non ci vede Vabbè che È ben Insomma Ha aspirato bene Il gas Quindi Però scappa Dai Giulia Vieni qui Come vieni qui Cioè Scusa Resta alla radio Magari chiama qualcuno Ok Come vieni qui Ma lasciala là Non ho capito Vabbè Ho visto mister muscolo Con la calotta Dello spintero Dobbiamo inseguirlo Non potevamo Pensarci noi E basta Ah beh Siamo Giulia Ok Non ho letto Pensavo che eravamo Alex Però vabbè Alex voglio dire Cioè Che uomo Dai Forse non ha Infuito In nessun modo Il fatto che Noi la radio Non l'abbiamo L'abbiamo proprio Saltata Di qua Questo spiega Quel suono Ah Sono andato La porta Cos'è stato Che importa Serve la calotta Dello spinterogeno Sembravano spari Deve essere passato Da qui Però forse Erano gli spari Di quello lì Che si è sparato Santo Dio Guarda qui cazzo Cosa Cosa Non c'è niente Cioè Guarda cosa Qui c'è un buco Eccolo Però A meno ha paura Non è lui Che insegue Siamo noi Che lo inseguiamo Con calma Però Con tutta calma Beh certo Ecco Stavo dicendo Stavo dicendo Se ha retto lui Reggerà anche Giulia Invece Ha mollato il martello Attenzione Era così disperato Ah Muore Muore qua Ok Morto Un infarto Non riesco a saltare Alex Troverò un'altra strada Quindi in questo caso Forse Lo spinterogeno È intero Andiamo Non viene spaccato Da nulla E quindi magari Scappiamo con la barca Eh forse sì Perché Nella prima run Conrad Era diciamo Quello che è andato a chiamare I soccorsi Quindi aveva senso Che lui arrivasse Con i soccorsi Però qua in questo caso Siamo tutti qua Quindi Non si deve rompere Lo spinterogeno Se no Rimaniamo qua a vita Quindi Hanno cambiato Un po' La situazione Penso sia così Qua non c'è niente No Vabbè a parte il cadavere Il solito cadavere Straconsumato Qui Qua non siamo mai stati Quindi penso sia nuovo Immunità diplomatica Nome censurato I sensi del Rivendico i diritti Riconosciuti Dalle norme vigenti E diritti di sovranità In qualità di persona Giuridica staniere Invoco l'immunità diplomatica Alle azioni giudiziarie Come vi ho visto Dal processo costituzionale Negli Stati Uniti In cambio Della solita immunità Condividerò Le conoscenze acquisite Durante l'impiego Dell'impianto di purificazione Dell'acqua E giuro che risponderò Ai quesiti Che mi saranno posti Io Non mi censurato Dichiaro Che quanto sopra Riportato Corrisponde al vero Avevano uno Forse un cinese Non so Boh Eh Se no Chi altri Potrebbe godere D'immunità diplomatica No Andiamo No Questa proprio è nuova Manifesto di carico Effetti personali Spedizione Dopo aver Esaminato le barre Ho rimosso e catalogato Gli effetti personali Prima della consegna Delle autorità Elenco degli oggetti Rimossi Due foto Una ricevuta Paio di occhiali Otto monete Quarti di dollaro Due mazzi di carte da gioco Due penne Una piastrina Brian Carter Una piastrina Marvin Cox Sappiamo i nomi Una piastrina Jack Hawkins Una piastrina James Jones Una piastrina Arrowstone Dichiaro che questo registro È accurato e veritiero In accordo al protocollo Dell'esercito degli Stati Uniti Firmato Ralph Baker Che sappiamo i nomi Di chi Dentro le barre Però uno di questi Sicuramente era a pezzi Visto che era piccolo Professor Stanley Dipartimento di Fisica Anderson State University Egregio Generale Le scrive in relazione Alla spinosa questione Dell'oro della Manciuria E a come quest'ultimo Potrebbe essere utilizzato In scenari di guerra Comprendo il motivo Della surgenza La geopolitica È specchio Dei nostri tempi La situazione Potrebbe nuovamente Diventare critica L'Occidente Ha sventato L'invasione nazista Ma altri Hitler Si c'erano dietro le quinte La mia opinione Di esperto È che l'oro della Manciuria Sia una risorsa Di rilievo Per la nostra nazione Si tratta di uno strumento Di cui noi disponiamo Ma a cui i nostri nemici E potenziali nemici Non hanno accesso È agevolmente trasportabile E molto potente Siamo stati testimoni Dei suoi effetti Oh sì La fase più complessa Riguarda l'effettivo Di spiegamento Dell'oro della Manciuria In quanto non vogliamo Che venga rilasciato In prossimità Delle nostre truppe In questo senso È necessario Che raggiunge il suo bersaglio Con estrema precisione Sarebbe senza dubbio Più efficace Nelle aree Con elevata presenza Di fanteria nemica Come le trincee E rifugi Queste sono le mie Osservazioni preliminari Ne faccia l'uso Che ritiene opportuno Spero di poterle incontrare Presto Per continuare a discuterne E in effetti Come avevo detto io Cioè In campo aperto Non è che Ah sì Oddio Magari lì per lì Potrebbe anche fare effetto Ma non penso Perché si disperde Invece In un ambiente chiuso O comunque Nelle trincesi Ok Andrebbe meglio Come arma Però Per limitare i danni Dalle truppe alleate Ho fatto cadere Alla scensura Eh Dovevano dotarle Di maschere Antigas Abbiamo però Fatto qualcosa Adesso guardo Oddio ma Madonna Ma che è Hai impazzito Autorità Vai vai Ma non l'aveva Incoraggiamento Cerca Di restare calmo Ok Non cedere al panico Per nessun motivo Urca La ferita Eeeh Rabbia Rabbia Ammazza E l'ha uccisa Ok Ne abbiamo perso uno Eh già Ah vabbè Doveva andare così Sì È lui? Adesso che se ne renderà conto Ah ecco Ah ecco Ho perdo Secondo me Secondo me Non è Diciamo Eeeh Non è lei No non è Sì che è lei Non lo è Ah Oddio Non è lei Ah no ma quello là è morto Non è lei Scusa cosa ci fa lì la carotta Dello spinterogeno Non è lei Non lo è Non è lei Non l'abbiamo raccolta Ma scusa Ce l'aveva l'altro E l'altro poi è morto Vediamo 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 Ah ok Non c'è quindi Tutta quella sezione Ah giustamente L'altro è morto Sì Posso Ok posso interrompere un attimo Ah no Giulia No volevo vedere Un attimo Le variazioni Ok Ok Comunicato le coordinate Junior Sì secondo me Questo era legato Al rebrite Junior quindi si è sparato Non avevano nulla Per sopraffare Junior Che alla fine Ha avuto la meglio Sì Potevamo usare il rebrite Secondo me La calotta Dello spinterogeno Scusa Beh i defili sono scesi Ok Alex Scusa di recuperare La calotta Prima della caduta Del montacarichi Però non ho capito Non ho capito Francamente Aspetta Frizz ha trovato il coltello Bred ha trovato la maschera Va bene In seguito Bred ha incontrato Frizz che l'ha aggredito Con un coltello Due scarpa Vabbè ok Il coltello Da cucina Alex ha trovato un coltello Da cucina E l'ha consegnato a Conrad Alex giusto Si è riuscito a fuggire Da orso Vabbè Andiamo avanti Vediamo Eh no Si era Giulia No non è lei Era lei Scusa Conrad Non dice niente E si vedi qua Torniamo Praticamente Con la nostra barca Ovviamente Ok Proviamo Ma scusa Nessuno chiede di Giulia Bene 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 Sì ho sbagliato risposte Quando mi ha aggredito Alex Oppure Abbiamo sviluppato Appunto Dei tratti Di Alex L'ha portato Poi alla fine In ogni caso Ancora Ancora Non ci credo È troppo duro Sembra tutto unico Era qui con me Io l'amo Era quello stronzo Mi stava inseguendo Mi ha attaccato Ma non potevo saperlo Come potevo immaginare Che fosse Giulia Scusa Conrad Dice niente Vabbè Sai Ti hanno ammazzato La sorella Vabbè Chi se ne frega Vabbè Ok Ma vediamo se C'è il curatore Cosa dice Abbiamo ucciso Cioè È morto uno Anzi una Quindi vediamo cosa ci dice C'è qualcosa Eh non sarà soddisfatto Magari Stavolta È finita Game over Capolinea Almeno per ora Ma è sempre possibile riprovare Vedremo se andrà meglio La prossima volta Notevole Quasi tutti sono sopravvissuti Eh vabbè Quasi tutti Quasi Eh È tutta una questione Di scelte in fondo Scelte compiute In tutta fretta In pre dal panico Con il cuore invece Che con la testa O viceversa Scelte le cui ripercussioni Potrebbero manifestarsi Solo più avanti Nel tempo Perché avranno Ripercussioni Ci sono sempre Ripercussioni Ci incontreremo di nuovo Magari a Little Hope Magari a Little Hope O magari altrove Chissà Ma accadrà Questo è più che certo È Inevitabile Stavolta Si vede che Che l'hanno fatto Un po' Un po' così Cioè nel senso Un po' La carlona Ecco se vogliamo Ci sono tanti dettagli Fuori posto Alla fine Dettagli che Si notano meglio Alla seconda run Ovviamente Rispetto alla prima Però Infatti Non Cioè non è che Non Come posso dire Ribadisco Mi ha fatto Né caldo Né freddo Non lo reputo Un horror Alla fine Perché non è che Non mi ha fatto mai Spaventare sul serio Mettere ansia Eccetera Anzi Ma perché Con dei dettagli Un po' ridicoli Come l'esempio Delle scarpe Mi ha fatto quasi ridere Voglio dire Non è che Per me non è l'horror Questo Un vero horror Voglio dire Io normalmente Appunto Per quanto riguarda I film L'horror Lo evito un po' Sotto quelli un po' Appunto Pesanti Perché Diciamo che Non è che non mi fanno dormire Però mi creano un po' D'agitazione Se vogliamo Ma nei giochi Non so Diciamo Ecco Diciamo che Outlast Quello mi Mi è stato abbastanza impresso E quello forse È già più horror Comunque più Ti mette un po' Di ansia Più paura Se vogliamo Outlast 2 Non lo so Perché ho voluto evitare Di giocarlo Ma Il primo L'avevo giocato insieme a Lara E diciamo che mi è bastato Ecco Lì magari appunto È proprio Horror Qua Una roba proprio leggera Per me Quindi Voglio dire Vabbè Niente Sì Oddio Queste ore Che ho trascorso A registrarlo Eccetera Diciamo che Non le reputo ore perse Ecco Mi sono comunque divertito Abbiamo vissuto Un'avventura diversa Dal solito Va bene Però Se la qualità È così Anche con i prossimi Episodi Insomma Diciamo che A questo punto Era meglio Until Dawn Se vogliamo No Until Dawn Anche lì diciamo Vabbè ci sono Un cliché Personaggi Stereotipati Magari Adesso non me lo ricordo Molto bene Ma Però lì c'era anche Un allone Di mistero Che comunque Ti spingeva Ad andare avanti Per quanto Anche lì Non è che fosse Una roba Pesante Ecco Piuttosto leggera Anche per quanto Riguarda l'horror Però Qua secondo me È un po' sotto Until Dawn Non so se perché L'editore è diverso Qua deve essere infatti Bandai Namco Là era forse Sony Visto che è un'esclusiva Sony Until Dawn Però Comunque Until Dawn Se vogliamo Rispetto a questo Era già un po' più serio Qua Certe situazioni Mi fanno ridere Poi vabbè È un po' pieno Non so se si vedono Di glitch Roba così Anche Quindi l'hanno fatto Proprio un po' Secondo me Troppo alla Carlona Non so Anche il doppiaggio Il doppiaggio di Until Dawn Era migliore Certamente Questo è un po' così Non so Non so Non Diciamo Per me È un po' sotto Until Dawn Ecco Vedremo Magari Non lo so Adesso il prossimo episodio Adesso Già becci il trailer Penso Sarà nel 2020 Little Hope Ah no Ah no Prima è vero Prima c'è Vabbè Questo qua che Vabbè Non muore A quanto pare Cioè Non so Io ho capito Uno dei due Somigliava tanto Al cinese Quello che Ha Accredito Alex Però Non so Qua arrivano i Marine Che poi Dovrebbero venire Aggrediti Dal cinese Vediamo Se Si verifica Ancora Questa cosa La nave ha inviato Un SOS Dal nulla Ma forse È davvero Una nave Ehi E questa Cos'è Vediamo se Spunta Cioè Non mi ricordo Se erano Abbastanza Ah sì Abbastanza presenti Ma sono anche qua Questi jump scare Ma Diciamo Non è così Che si spaventa La gente Sì Ecco Il trailer Cioè Qualcuno ci sta Ma Se lo spavento Si bada solo Su quello Eh Little Sì Ok Sì Ecco Non si è bloccato ancora La creazione Dello zero Si vede che Non gli piace Vabbè Pena appena Eh Sì No Sì Diciamo La qualità è la stessa Un po' così Non è che Sono in trepidante Attesa Siamo il secondo episodio Diciamo che Vediamo Insomma Adesso Si sa solo l'anno Quindi l'anno prossimo Non si sa La data precisa Vedremo Anche come Sono messo Diciamo Con le pubblicazioni Sul canale Insomma In che periodo Verrà pubblicato Se sarò Abbastanza libero Alla fine Non è neanche difficile Da registrare Perché essendo come I titoli Episodio La Walking Dead La Telltale O comunque Life is Strange La Don't Not In questo caso Sendo ancora Ancora più corto In un pomeriggio Proprio E poi quello che ho fatto Cioè mi sono messo Un tre ore All'incirca E l'ho registrato Tutto Quindi Vediamo un attimo Non è difficile Ecco da registrare Sono praticamente Nessun taglio da fare Quindi nulla Qua non li ho trovati Tutti Ne mancano Uno Due Tre E quattro Penso Sì Quattro E diciamo Gli altri Uno Sicuramente Che era Quello della cassaforte Vabbè Però dai Quasi tutti Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette No aspetta Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Sette Ah no Otto Ce n'è uno Qua Non l'ho visto Otto Vabbè Su Questa sono Cinquanta Ne ho lasciati Otto Insomma Ne ho trovati Quarantadue Direi che Un buon numero Per essere Per l'ho giocato Solo due volte Vabbè Va bene Va bene E niente Dai Allora Io Spero che Comunque La serie Vi sia piaciuta Anche questa Seconda Run Ecco Non so Vabbè Magari ve l'avrò Già detto Sotto Come risposta Sotto i vostri Commenti Essendo un gioco Facile a registrare Poi Essendo comunque Impegnato Così con la casa Eccetera E L'ho registrato Molto prima Ecco Lo vedete anche Dalla data Della fine Della scorsa run L'ho registrato In poco tempo Quindi Vabbè Se Mi avete dato Consigli Eccetera Mi spiace Non averli seguiti Ma Così è stato Anzi Tra l'altro Ora come ora Quando pubblicherò Questo episodio Probabilmente Non avrò Neanche internet Quindi Per forza Di cosa Ho dovuto Registrarlo Prima Se no Non vedevate La fine Della serie Vabbè Dai Niente Spero che La mia Insomma Il mio Parere Si sia capito Come ho detto Ripeto Il prossimo episodio Vedremo 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 Il periodo In cui Lo rilasceranno Se sarò Appunto Comunque Abbastanza libero Ma anche Se avrò voglia Di giocarlo Ce lo giochiamo Altrimenti Vediamo Vedrò Magari In questo caso Prima Un po' Le recensioni Per capire Meglio Se sarà Un episodio Migliore Di questo Perché questo Diciamo che Non mi ha Soddisfatto Appieno Pensavo Che Insomma Avessero imparato Un po' Da Passato Invece Anche Ecco Io l'ho giocato Eden Agenda Che è Un'esclusiva Sony Giocabile Col cellulare Volendo Usare il cellulare Come controller Anche quello Non è che mi aveva Soddisfatto Tanto I scrittori Sono gli stessi Diciamo che Per ora Le produzioni Recenti Poi non so Se hanno fatto Altro Francamente Antildone Rimane il migliore Ecco Per quanto Anche quello Non è che Cioè Si ci stava Alla fine No Mi ero divertito Anche a giocarlo Però rimane Il migliore Ecco Va bene Dai Vi saluto Vi ringrazio Noi ci risentiamo Al prossimo video Ciao a tutti Ragazze e ragazzi